Il montaggio della porta entrante. Gli esperti dell'azienda Thermofast stanno montando l'ingresso della porta, una delle cose più in vista per quando riguarda un appartamento. Una delle cose fondamentali è mettere a livella, vero Mastro? Sì, sì. Usando la livella è una delle cose fondamentali quando si mette la porta dell'ingresso. Ora ci devi spiegare che cosa andiamo a fare. Si continua a mettere le viti. Quali sono le tre cose più importanti quando si mette una porta dell'ingresso? Il livello. Il livello. Le viti. L'imposamento delle viti. E poi mettere tutto in squadra, vero? Come ci diceva prima. Ok, continuiamo. Lasciamo lavorare il professionista a fare il suo lavoro. Maestro, andiamo a scartare con attenzione. Maestro, la calibratura è molto importante nella porta. Come stiamo andando? Bene? Ottimo, ottimo. Facciamo un lavoro alla perfezione. Grazie mille. Alla thing Natural Grazie a tutti